Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura parliamo dell'aeroporto d'Abruzzo. I numeri sono positivi, questo dice la saga attraverso il suo presidente Nicola Mattoscio che risponde così alle polemiche degli ultimi settimane proprio sulla gestione dello scalo internazionale d'Abruzzo di Pescara. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Lorenzetti. Numeri positivi per i passeggeri in transito ma anche sul fronte dei bilanci. Il presidente della saga, società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, Nicola Mattoscio, risponde per le rime a chi aveva sollevato critiche sulla gestione dello scalo rilanciando l'obiettivo delle milioni di passeggeri. Contrariamente a dati sbagliati che sono stati fatti coppevolmente circolari, il volume di traffico di questo aeroporto cresce, cresce significativamente. Nelle prime due settimane del mese di luglio siamo di fronte a un incremento del 29%, nei primi sei mesi dell'anno 2017 la crescita è di oltre il 10%. Quindi siamo perfettamente in linea con l'obiettivo del piano industriale che prevede a fine anno di traguardare e superare i 650 mila passeggeri. Altri fatti sono i risultati economici, chiudiamo anche il primo semestre 2017 in linea con i due precedenti esercizi e cioè con tutte le tendenze gestionali e bilancistiche che sono in direzione del recupero di solidi equilibri patrimoniali per la società, avendo superato da questo punto di vista anche le criticità che venivano rilevate dalle autorità di vigilanza a riguardo e anche di recupero della sostenibilità economica, dei principi di sostenibilità economica con rivisitazione di tutta la struttura di costi e la struttura dei ricavi. Questi sono i dati veri da cui partire per ogni valutazione obiettiva, più o meno polemica che si voglia fare, che ci sta tutto nel confronto e nel dibattito pubblico, ci può stare qualunque osservazione critica e anche polemica, ma la cosa che non si può ammettere è che queste considerazioni critiche e polemiche siano basate su informazioni sbagliate. Andiamo avanti ora la cronaca, un arresto per spaccio di eroina da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile dell'Aquila. L'Aquilano, un 34enne con precedenti, è stato colto in flagranza a spacciare davanti alla caserma di Viale Beato Cesidio, il servizio è di Daniela Rosone. Spacciava eroina nella sua abitazione nel progetto case di Sant'Elia, ma non solo, incurante del fatto che lì ci fossero i carabinieri, anche davanti al comando dei carabinieri di Via Beato Cesidio all'Aquila. Per questo un 34enne aquilano è stato prima denunciato, ma poi arrestato, dai militari del nucleo operativo e radiomobile, coordinati dal tenente, Maximiliano Papale. Il primo fatto si riferisce alla notte tra il 14 ed il 15 luglio scorso, quando, dopo numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dai carabinieri presso i progetti case del quartiere di Sant'Elia per prevenire e reprimere reati predatori e lo spaccio di stupefacenti, hanno notato movimenti sospetti in uno degli alloggi del progetto case. Controllato l'ennesimo giovane che usciva da quell'appartamento, i militari hanno poi trovato in suo possesso una dose di eroina da 0,2 grammi. Le successive verifiche hanno fatto emergere che l'abitante era proprio il giovane aquilano, con pregiudizi per reati afferenti agli stupefacenti in passato. Dunque i militari hanno proceduto con la perquisizione domiciliare, dove sono state rinvenute altre tre dosi di eroina da 0,2 grammi l'una e 10 ricette mediche in bianco della regione Abruzzo. Pertanto è scattata solo la denuncia per possesso ingiustificato della documentazione medica, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per ricettazione. Dopo qualche giorno però, gli stessi agenti che avevano eseguito la perquisizione hanno notato il 34enne davanti alla caserma di Via Beato Cesidio, mentre cedeva un piccolo involucro ad un altro uomo, a cui è stata trovata poi una dose di eroina. Colto in fragranza di reato, il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato condannato a otto mesi di reclusione e rimesso subito in libertà con pena sospesa. E proseguiamo con la cronaca. Questa mattina a Selva d'Altino, in Val di Sangro, è andato a fuoco un mezzo traccialine. Vedete le immagini, uno degli operai addetti, un quarantenne pugliese di Galatone, in provincia di Lecce, dipendente di una litta di Nardò, che è in appalto da Anasi rifacimento della segnaletica, è rimasto uscionato alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Chieti, trasportato dall'elisoccorso del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Casoli, i carabinieri forestali della compagnia di Lanciano. Il mezzo sarebbe stato urtato da un SUV in prossimità dell'incrocio in cui stava lavorando, prima di prendere fuoco a causa della perdita di solventi e carburante, che sarebbero entrati a contatto con parti calde del camioncino, almeno stando ad una prima ricostruzione. Una colonna di fumo nero e tossico, come potete vedere, si è sprigionata dal mezzo carico di vernici. Continuiamo con il nostro giornale. Adesso ci spostiamo a Montorio al Vomano. Terranno chiusi i propri esercizi commerciali per un'intera giornata e questa è la protesta eclatante decisa dai commercianti del paese del Terramano, che chiedono al Comune di riportare il tradizionale mercato in centro storico, fonte di economia per il borgo, il servizio di Tania Bonici Castelli. Iniziativa eclatante dei commercianti di Montorio che resteranno chiusi per un'intera giornata per protestare contro la decisione del Comune di non riportare il tradizionale mercato in centro storico. Una consuetudine alla quale esercenti cittadini montoriesi non vogliono più rinunciare. Dopo il terremoto, infatti, il mercato era stato trasferito in periferia. Si trattava di una situazione momentanea, ma ora i commercianti temano che possa diventare definitiva. Commercianti sul piede di guerra, ma cosa sta succedendo a Montorio? A Montorio c'è un malcontento da parte non solo dei commercianti, ma anche dei cittadini. A causa di un mercato che ormai abbiamo dimenticato nel centro storico, ma è stato momentaneamente, dopo il sisma del 24 agosto del 2016, posizionato, ubicato in un parcheggio adibito proprio all'uso parcheggio. Questo cosa ha comportato? Innanzitutto da parte dei nuovi commercianti un calo di fatturato, naturalmente, perché manca il passaggio e quindi c'è proprio una desertificazione di Corso Valentini. E' anche una lamentela da parte di tutti gli abitanti, dal momento in cui si trova in una posizione scomoda e soprattutto perché anche nei paesi limitrofi, gente che arriva con i mezzi, i propri mezzi, non hanno possibilità più di parcheggiare. Questo ha comportato anche da parte degli ambulanti una riduzione di circa un 40%, quindi il 40% degli ambulanti ad oggi non sono più presenti a Montorio. E allora voi avete deciso di fare una protesta eclatante? Sì, abbiamo deciso, almeno con i mezzi e le armi legali, diciamo lecite che abbiamo, a disposizione di chiudere domani e manifestare questo dissenso da parte di tutti. Ma perché il Comune non riporta questo mercato tradizionale in centro storico? Secondo alcune dichiarazioni da parte di un delegato al commercio consigliere comunale è stato comunque detto che il Corso Valentini presenta zone rosse, cioè proprio zone inagibili. La cosa è un po' incongruente nel senso che gli esercizi commerciali lungo Corso Valentini sono quotidianamente aperti, non solo, ma ci sono anche manifestazioni, eventi, caccia al tesoro da parte di ragazzini, per cui suona un po' male queste dichiarazioni. Il Sansificio e la centrale a biomasse di Treglio inquinavano. Lo ha stabilito con una sentenza il giudice del Tribunale di Lanciano condannando i due titolari rispettivamente a 8 e 6 mesi di reclusione, pene poi convertite in multe da 60 e 40 mila euro. Vediamo insieme il servizio. Condanna per inquinamento atmosferico, assoluzione per smaltimento illecito delle ceneri. In primo grado i titolari della centrale a biomasse GCT e del Sansificio di Treglio, Antonio Vecere, 45 anni, e Enrico Vecere, 71, sono stati condannati rispettivamente a 8 e 6 mesi, con pene convertite in multe da 60 mila a 40 mila euro. Il giudice Andrea Belli del Tribunale di Lanciano gli ha ritenuti colpevoli del reato ambientale contestato dalla Procura di Lanciano, che sequestrò gli impianti a gennaio 2015. Per l'impianto di produzione di energia elettrica, dalle analisi sulle ceneri prodotte dalla combustione, i consulenti accertarono quantitativi di materiale bruciato superiori a quelli autorizzati. Per il Sansificio, invece, rilevarono livelli di monossido di carbonio tre volte superiori al consentito. A processo si erano costituiti parti civili, nuovo senso civico, 45 cittadini di Treglio e il Comune. Il commento del sindaco Massimiliano Berghella. Avevamo ragione ad avere fiducia nella magistratura, avevamo ragione sulla qualità di queste indagini e soprattutto hanno portato a un risultato che è conforme, secondo le nostre aspettative, un risultato che io dico epocale. In un periodo in cui si ha sfiducia nelle istituzioni, io dicevo di averne fiducia e ho avuto pienamente ragione. Ma soprattutto è stata fatta chiarezza su quelli che erano i problemi legati all'azienda e che noi denunciavamo da tempo. Erano sicuramente una produzione maggiore rispetto a quella che era autorizzata, delle quantità di rifiuti stessi e di ceneri nel caso della biomassa. Ma soprattutto avevamo evidenziato dello sforamento di diversi parametri, che poi sono parametri di inquinanti ambientali. Siamo molto soddisfatti di questa sentenza e soprattutto la nostra non è la fine di un percorso, ma è l'inizio sicuramente di una battaglia per la libertà e soprattutto per la giustizia, come l'abbiamo fatta fino ad oggi. Lega Ambiente ha presentato ricorso al TAR contro la variante LPRG approvata dal Consiglio Comunale di Silvi su impulso della Giunta Comignani. Entro un anno e mezzo dovrebbe arrivare la decisione sulla legittimità del provvedimento. Vediamo. Un ricorso contro la procedura che ha portato all'approvazione della variante al PRG di Silvi, ma anche contro il contenuto del provvedimento varato dalla Giunta Comuniani, terminata anzitempo a seguito delle dimissioni dei consiglieri comunali, soprattutto per la variante al piano regolatore. Lega Ambiente, a cui probabilmente si aggiungerà presto anche Italia Nostra, ha presentato ricorso al TAR, il cui primo effetto potrebbe essere la decisione di una sospensiva, come spiega l'Avvocato di Lega Ambiente ed ex consigliere comunale di Silvi, Antonio Del Vecchio. Noi ritrovavamo che il Consiglio Comunale con cui è stata approvata la variante non potesse svolgersi in seconda convocazione, ma andasse riconvocato un nuovo Consiglio Comunale. Ciò non è stato fatto, non sono stati ascoltati i Consigli Comunali che avevano evidenziato ed eccepito questa cosa nella conferenza del gruppo e in Consiglio Comunale, quindi si è deciso di impugnare dal punto di vista giuridico e procedurale la delibera. Poi c'è l'aspetto più nel merito che riguarda Lega Ambiente, in cui ci siamo accorti che nella trasposizione sulla variante del piano regolatore non si è tenuto in mente conto dei nuovi piani di assetto idrogeologico che riguarda le frane. Noi abbiamo chiesto la sospensiva, quindi una volta che scriveremo il ruolo il ricorso verrà fissato un'udienza pubblica in cui si discuterà sulla sospensiva. Da qui il momento in poi si andrà del merito, io penso che in massimo un anno e mezzo o due anni dovremmo avere una sentenza. Dobbiamo difendere il territorio a rischio idrogeologico e la vocazione turistica di Silvi, su cui gravita anche l'area marina protetta del Cerrano. Queste le motivazioni che hanno spinto gli ambientalisti a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Innanzitutto non vengono tenute all'interno delle realtà ambientali per quanto riguarda il discorso della corretta programmazione del PAI. E quindi questo significa non tutelare un territorio dal punto di vista ambientale, non tutelarlo nemmeno da un punto di vista di quella che è la proiezione verso il nuovo turismo, di turisti che vengono da fuori, che cercano un territorio di qualità e un territorio tutelato. Basti pensare alle ultime criticità che abbiamo avuto su quest'area proprio dal punto di vista ambientale. Cambiamo argomento, un opuscolo con i consigli utili per godersi l'estate. In serenità l'iniziativa è della ASL di Pescara ed è stata presentata questa mattina dal direttore generale Mancini che ha voluto illustrare quelli che possono essere i rischi di quando si va in vacanze, soprattutto in spiaggia. Vediamo insieme il servizio. Direttore, questa iniziativa importante di cui si parla questa mattina a Pescara in direzione sanitaria riguarda i consigli utili per l'estate. L'estate è bella, però ci sono anche dei rischi ed è giusto che i medici possano consigliare al meglio i giovani, anche meno giovani. Sì, questa è un'iniziativa del Dipartimento Prevenzione perché serve a prevenire quello che accade in estate, cioè i colpi di sole, i colpi di calore, le ustioni, le intossicazioni alimentari, le tossinfezioni alimentari e le malattie della pelle legate all'esposizione ad agenti chimici ma anche ad agenti microbici. Sono tutte norme che possono sembrare ovvie, come quella di non vestirsi pesantemente nelle ore calde, di non mangiare e farsi il bagno, di non lasciare i bambini al sole, però ogni anno noi rileviamo puntualmente che le persone si ustionano, si bruciano, si sentono male mentre fanno il bagno perché hanno mangiato, i bambini sono più facili, soggetti alle gastrointeriti e così via. Quali sono i rischi maggiori che si possono occorrere durante una vacanza in estate? Durante una vacanza sono soprattutto i colpi di sole, noi ne vediamo spesso, e poi le tossinfezioni alimentari che sono dovute spesso alla manipolazione con mani non perfettamente lavate di alimenti che, e quindi con il calore, questo può portare allo sviluppo di colonie batteriche e dare gastrointeriti. Ovviamente i soggetti più a rischio sono i piccoli e gli anziani, quelli che più facilmente vanno incontro a un erroneo lavaggio delle mani e quelli che più facilmente hanno danni da una gastrointerite, perché una disidratazione in un bambino e in un anziano può avere conseguenze anche molto serie. All'Aquila pochi turisti, i commercianti, attendono la perdonanza d'agosto per vedere più movimento, ma la triste realtà è che i turisti che scelgono il capoluogo di regione non hanno un punto informativo dove reperire addirittura la cartina della città. Veniamo insieme il servizio di Daniela Rosone. Com'è il movimento turistico in questi giorni all'Aquila? Ancora non si vedono i turisti, perché forse è ancora presto, oppure decidono di stare ancora a nostro palmare. Comunque penso che dalla fine del mese si incominceranno a vedere. Aspettate qualcosina in più per la perdonanza? In genere è quello il periodo in cui vi vengono a trovare più turisti? Sì, diciamo che ci aspettiamo molto di più dell'anno scorso, perché visto quello che è successo tra matrice, sottoservizi e cose varie, quindi speriamo che quest'anno almeno di recuperare quello dell'anno scorso. Pochissimi turisti nel centro storico dell'Aquila, sabato e domenica compresi. La gente preferisce andare al mare, evidentemente. Il movimento non c'è e sembra ancora peggio rispetto agli altri anni. Si attende sempre l'agosto per la perdonanza, per sperare in qualche affare in più, ma intanto due mesi estivi sono quasi terminati e gli affari dei commercianti aquilani, quelli che si basano sul turismo, sono pressoché pari allo zero. In tutto questo mettiamoci che chi arriva all'Aquila non ha un punto di informazioni, non ha una cartina della città, il welcome point è chiuso, ce ne siamo occupati più volte e il comune dell'Aquila, che ora ha un nuovo assessore di Zecca, Sabrina Di Cosimo, dovrà assolutamente correre a ripari per cercare di rendere questa città, sì, più bella, ma anche accogliente. Chiuso il festival della partecipazione ormai da qualche giorno, all'Aquila c'è pochissimo movimento turistico. Il welcome point, ci eravamo occupati di questo argomento neanche un mese fa, continua ad essere desolatamente chiuso. L'auspicio delle persone, anche dei commercianti, è che il nuovo assessore al turismo del comune dell'Aquila, visto che c'è una nuova giunta, possa mettere mano al più presto alla questione. E se non si può far rifunzionare questo welcome point, quantomeno creare dei punti per i turisti con cartine dell'Aquila e persone che possano dare comunque informazioni utili. Poco movimento è vero, sicuramente il periodo più gettonato è quello della perdonanza celestiniana che cade a fine agosto, però sicuramente i turisti che vengono all'Aquila non trovano un bello scenario da questo punto di vista. Ora ci spostiamo a Loreto a Prutino, dove il governatore D'Alfonso ha fatto visita assicurando che produrrà ogni sforzo per il recupero del centro storico. Vediamo. Presidente, lei ha visitato un bellissimo centro storico, c'è la possibilità che questo torni ad essere uno dei borghi più belli d'Italia? Io farò l'impossibile, come abbiamo fatto per il contributo straordinario alla caserma, per 700 mila euro, come lo abbiamo fatto per il dissesto idrogeologico, oltre un milione di euro. Adesso mi metto a spingere per il recupero della Chiesa di San Francesco, pur facente parte del patrimonio del FEC, del Ministero degli Interni. Ho chiamato oggi stesso il direttore generale del FEC, il prefetto Carbone, e poi ho chiamato anche il capo dell'USRA abruzzese per fare in modo che anche l'USRA ci metta attenzione, sia sulla Chiesa di San Francesco che sul municipio. Per la Chiesa ci vuole un milione di euro, per il municipio un milione e duecento mila euro come da progetto. Io mi sto facendo carico di portare qui a Loreto la Paola De Micheli, il nostro sottosegretario al Tesoro, e poi anche il capo della struttura di missione che sta a Palazzo Chigi, per fare in modo che si tenga conto della forza di questo progetto per quanto riguarda il cantiere che si può attivare, ma anche il valore per l'intero comprensorio, sia del municipio che di questa Chiesa. Facendo passare un principio, che non solo i comuni del cratere debbano avere i cantieri, ma anche i comuni fuori cratere che hanno i progetti pronti. Io mi ci impegno, solitamente non conosco limiti che mi possono bloccare, ho detto al Sindaco di farmi sapere quando appalta la caserma dei Carabinieri e quando appalta il dissesto idrogeologico, entrambi finanziati da questa regione di questa legislatura. Per gli altri due finanziamenti mi spenderò personalmente a partire anche da un sopralluogo di queste personalità qui con me. A Teramo si è scatenata una vera e propria guerra tra Abruzzo Circuito Spettacolo, attuare gestore del Cineteatro Comunale e la Società della Musica e del Teatro Riccitelli. Quest'ultima ha presentato un esposto al Comune avanzando dubbi sui titoli che ACS ha presentato per la partecipazione al bando di gara per la gestione del teatro. Vediamo insieme il servizio. Terremoto nel mondo della cultura e del teatro a Teramo. Sì, proprio a Teramo che si candida a Capitale della Cultura 2020. Una guerra in piena regola. Tra Abruzzo Circuito Spettacolo che mesi fa si è giudicato il bando del Comune di Teramo per la gestione e ristrutturazione del Cineteatro Comunale e la Società di Musica e Teatro Riccitelli. Entrambe propongono una propria stagione teatrale e la Riccitelli usufruirebbe gratuitamente delle 25 giornate che il gestore deve lasciare a disposizione del Comune. Una concorrenza sleale, secondo Abruzzo Circuito Spettacolo, che auspica l'avvicendamento e la presenza di diverse associazioni culturali al Comunale e non di una sola. Ma la situazione si complica ancora di più. I consiglieri comunali Maurizio Verna e Francesca Di Timoteo, rappresentanti istituzionali nel CDA della Riccitelli, rendono noto di un esposto indirizzato al Comune di Teramo che avanza dubbi pesanti sui titoli presentati da ACS per aggiudicarsi il bando di gestione del Cineteatro Comunale. I vostri sono solo dubbi o c'è qualcosa di più? Qualche certezza? Allora, noi da consiglieri comunali ma anche da componenti del CDA oggi veniamo qui a riportare i dubbi che sono stati esposti durante un CDA della Riccitelli e come consiglieri comunali per noi è un obbligo segnalare questi dubbi che sono stati esaminati durante questo CDA. Ci interessa che vengono fatte le cose legittimamente e quindi chiediamo solamente che quanto viene dichiarato poi corrisponda effettivamente in realtà. Noi non stiamo affermando il contrario ma stiamo solamente riportando dei dubbi ascoltati. C'è un bando iniziale fatto un po' in modo superficiale dove si è cercato quasi di dare via a questo teatro comunale al primo che se lo prendeva perché ci sono delle problematiche di manutenzione di costi abbastanza elevati però per chi vuole autocandidarsi a Capitale per la Cultura 2020 penso che sia una cosa che vada nella direzione opposta. Abruzzo Circuito Spettacolo è stato l'unico soggetto a partecipare al bando per la gestione del Cineteatro Comunale di Teramo e se mai si accertassero dichiarazioni false che possano rendere nulla la giudicazione sarebbe un bel guaio per la città che da due possibili stagioni teatrali resterebbe senza spettacoli e senza teatro. L'Aurum di Pescara compie 10 anni l'amministrazione comunale ha messo in cartellone una serie di eventi per festeggiare il traguardo che culminano con la serata di domani che vedrà anche una esibizione di Jets. L'Aurum compie 10 anni Assessore Diacovo un traguardo importante un compleanno importante per questa struttura che si trova nella zona sud di Pescara e per questa ricorrenza avete preparato un ricco programma di eventi? Certamente perché l'Aurum da posto magari che sembrava off cioè ai margini della zona della città in realtà è diventato il cuore pulsante il cuore della cultura, di socialità di questa città. Ormai è frequentatissimo abbiamo solo nella stagione estiva per la quale ho un programma di tre mesi in cui ogni sera c'è un evento oltre 10.000 presenze insomma l'Aurum è il cuore di tantissime attività di questa città è stato un regalo straordinario fattoci 10 anni fa per questa città e lo vogliamo festeggiare insieme al Presidente della Regione che ne fu artefice 10 anni fa al Sindaco in cui sarà una serata in cui ci saranno anche i concerti Jets diciamo come componente del Pescara Jets si sposterà nell'Aurum poi ci sarà una proiezione nel film di Erminia Cardona in Dramalandra sulla storia di questa struttura e fare un po' ragionamento insieme sulle prospettive di questa struttura su a che punto è oggi e perché è così amata la città e come vogliamo investire per far sì che sia sempre più importante e utile a questa città L'obiettivo del rilancio dell'Aurum è stata una partita vinta dall'amministrazione comunale? Sicuramente sì l'Aurum è stato un po' sottutilizzato in alcuni momenti ma adesso è attivo a pieno titolo e ogni tipo di linguaggio culturale ma anche ogni tipo di appuntamento di socialità, di beneficenza di studio, di scuola ha avuto l'Aurum è un punto imprescindibile di questa città la scommessa vinta e che ormai parte il DNA più bello della nostra comunità Ed ora la pagina dello sport iniziamo dal calcio e dal pescara Ugo Campagnaro prolungherà il contratto con il Delfino che avrà ora scadenza a giugno 2018 le visite mediche sono state positive per il difensore argentino che si aggregherà ai compagni di squadra nella seconda parte della preparazione estiva a Palena vediamo il servizio di Jacopo Forcella Ugo Campagnaro anche nella prossima stagione difenderà il pescara dagli assalti avversari il difensore argentino infatti sta per firmare il prolungamento di contratto col Delfino fino al giugno 2018 l'unica incognita al buon esito di una trattativa già avviata erano come facile prevedere le condizioni fisiche del sudamericano tormentato spesso e volentieri da problemi che ne hanno condizionato le presenze ma non il rendimento già perché a 37 anni Campagnaro volenti o nolenti è il leader della difesa biancazzurra e lo sarà ancora di più dal momento in cui Coda e Stendardo troveranno la strada per l'addio al pescara l'argentino guiderà soprattutto i nuovi nell'inserimento ma sarà la consueta sicurezza nel reparto arretrato di Zdenek Zeman il tecnico boemo però avrà il difensore non immediatamente ma da quando il Delfino chiusa la parentesi di rivisondoli tornerà a Palena per la seconda parte della preparazione per campionato per Campagnaro nel frattempo lavori specifici e conservativi rispetto alla tenuta fisica di un giocatore che dovrà salvaguardare il più possibile quel polpaccio che continua perennemente a dargli tormento prima lavorerà il centro sportivo Poggio degli Univi per poi aggregarsi al resto della truppa intanto a proposito di difensori si cerca una strada per molti di loro che non sembrano rientrare nei piani del tecnico boemo ma Zotta Coda Stendardo Rossi e Biraghi ma non solamente loro perché se a centrocampo è fatta per l'addio di Alberto Aquilani anche Bruno e Memushai col Sion che bussa sono sulla lista di partenza discorso analogo per l'attacco con l'infortunato Cocco e con gli esuberi di Polidori destinato in Serie B o in Lega Pro Pettinari e Luca Forte Adesso parliamo del Teramo il capitano Ivan Speranza inizia la sua settima stagione con la maglia bianco-rossa curiosità per i nuovi arrivati anche un pensiero per i compagni di squadra che si allenano a parte a Teramo sentiamolo nell'intervista di Ania Cantagalli Ivan si ricomincia gli altri sono sempre più giovani e tu invece invecchi sempre di più Sì, infatti però è sempre bello ricominciare fin quando si ricomincia è sempre bello no, no a parte tutto sono contento di riniziare mi ho finito da poco comunque però è sempre bello ricominciare nuove esperienze una nuova stagione conoscere nuovi ragazzi e ci sono sempre nuovi stimoli Avete terminato da poco come hai detto tu una stagione non proprio esaltante cosa ti è rimasto? ma sappiamo tutti è una stagione travagliata quindi il fatto che ci siamo salvati l'ultima partita in quel modo per noi è stata una liberazione quindi speriamo di non rivivere più questa stagione che è passata metterci alle spalle tutto e magari proseguire con il piede giusto Hai già avuto modo di parlare con Asta vi siete sentite al telefono oppure farete il primo incontro qui? No, no ancora non ci siamo sentiti quindi sicuramente ci incontreremo qui ci conosceremo qui di persona e parleremo ovviamente Ti sei fatta un'idea delle squadre che si stanno iscrivendo di quello che magari potrà essere il girone credi il girone bio magari il girone sud? Ma tanto è ancora presto non si si vede non si capisce mai mai nulla quindi fino alla fine non si sa non si sa che succede comunque tutte queste squadre che non si iscrivono oppure comunque si infalliscono quindi è un po' un macello come si vede ogni anno che si va avanti è sempre peggio quindi vedremo per noi comunque siamo qui facciamo il nostro lavoro quindi dove andremo vedremo e degli altri che sono rimasti tra virgolette ai margini e che dovranno trovare altra sistemazione tu cosa pensi? Ma quello dispiace ovviamente perché comunque sono compagni di squadra però è dispiace quindi però ovviamente la società ha fatto delle scelte questa fa parte del calcio perché ovviamente rientrare nei piani della società fa parte del calcio dispiace non averli più perché comunque mi è passato un anno come ho detto prima travagliato e comunque abbiamo creato un bel gruppo sono tutti bravi ragazzi comunque bravi calciatori comunque magari l'anno scorso è stata un'annata particolare un po' per tutti quindi magari non siamo riusciti ad esprimerci al meglio però la società ha fatto questa scelta una rivoluzione bella grossa ci sta fa parte del calcio ripeto dispiace non averli qui però fa parte del calcio Continuiamo con il ciclismo Antonio Di Sante e Valentino Sciotti due personalità diverse ma importanti è l'ultimo trofeo Mattotti il corritore della GM Europa Vini in fuga per larga parte della giornata per il patron Vini Fantini un terzo posto con Canola che sarà la punta di diamante della prossima stagione Di Sante allora c'è stato questo ritiro però la gara è stata tirata bella vincente emozionante è stata una gara tiratissima questa è una gara come mi dicono sempre i miei direttori sportivi ogni giro mi fanno sempre questo esempio avete presente una candela ogni giro la candela diminuisce questa è una gara così è durissima ma nello stesso tempo una gara affascinante perché sia per il pubblico che sia per i corridori perché non è che capita tutte le corse che il pubblico può vedere una corsa girare più volte al trofeo Matteotti c'è questa possibilità infatti il pubblico è stato carosissimo io ringrazio la mia terra ringrazio i miei tifosi ringrazio tutti la Gemio Vini quest'anno voleva fare bene in questa manifestazione essendo squadra di casa una delle squadre di casa sì noi partiamo ogni corsa per fare bene al Matteotti ancora di più perché è l'unica corsa di casa l'unica corsa del centro sud penso di averla onorata io fino ad essere il migliore modi Valentino Sciotti soddisfatto crediamo per questo terzo posto al settantesimo trofeo Matteotti con Marco Canola assolutamente sì un terzo posto importante di un atleta di punta della vostra formazione sì e oggi il capitano vero di questa squadra è un anno intero che va forte ben 22 volte è arrivato nei primi 10 anche in gare importantissime ha vinto anche tanto penso forse è l'italiano che ha vinto di più cosa dire è assolutamente positivo oggi è attaccato a poco dall'arrivo perché voleva ancora essere più sicuro di vincere arrivando solo ovviamente ha bruciato delle energie che gli saranno mancate nel finale ma io sono assolutamente felice il futuro della Nippo Fantini tra l'altro la notizia di queste ultime ore che ci sarà una sponsorizzazione da parte vostra per i prossimi due anni per questa squadra quali sono diciamo gli obiettivi gli obiettivi è crescere sempre di più come squadra come risultati cosa che stiamo facendo restando fedeli a quelli che sono i principi che hanno fatto nascere questa squadra e soprattutto valorizzare i giovani se poi nel nostro percorso ci dovesse essere qualche giovane abruzzese che dovesse meritare il passaggio per noi sarebbe solo che un orgoglio poterlo guidare a una categoria superiore il futuro della Nippo Fantini ci sarà ancora Damiano Cunego? assolutamente sì è un ragazzo integro ricordiamoci che è più giovane di Valverde quindi purtroppo è stato sfortunato agli ultimi tre anni si è fratturato tre volte di fila è tutto anche per la seconda edizione del TG6 prossimo appuntamento alle ore 23 grazie per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti